La risposta è sicuramente positiva dal punto di vista dell'atteggiamento, abbiamo bisogno ancora di notare praticamente, stiamo tornando ad essere compatti, abbiamo provato a regolare qualcuno da qualche fortuna, però dal punto di vista dell'atteggiamento è sicuramente positivo. Sì, non vediamo l'ora, sono mesi e mesi che aspettiamo questo momento, quindi proviamo ad arrivare a domenica carica. A noi un avversario ostero, la sfida per fare bene lo sta, ha dimostrato tutt'ora con la vita di un po', anche il nostro ostero è buono, per fare bene non vediamo l'ora di dimostrarlo domenica.